Venezia. Era in vacanza con la moglie e il figlio. La corsa per prendere un treno alla stazione Santa Lucia gli è stata fatale. Un turista dell'Hondura se morto, vittima di un malore sulla banchina dello scalo ferroviario veneziano. Aveva 76 anni. Nonostante l'utilizzo del defibrillatore da parte di un'unità medica, il turista è rimasto vittima dello sforzo. Sul posto anche il personale della polizia ferroviaria, intervenuto per prestare i primi soccorsi al turista. Soccorsi che si sono però rivelati inutili. Grazie.